Un uomo è morto e centinaia di case e strade sono state allagate nella città portuale di Volos, nella provincia di Magnesia, nella Grecia centrale. Problemi per la mobilità anche nella vicina regione di Pilion e sull'isola di Schiathos, fino a che la tempesta non si sarà attenuata. Il meteorologo a capo dell'osservatorio nazionale di Atene ha dichiarato che il Monte Pelio ha registrato livelli di pioggia da record. Un forte temporale sta attraversando la regione e in alcune località è caduta la pioggia di un anno in un solo giorno.